E' stato presentato questa mattina dal sindaco Enzo Bianco il progetto Alibus, la nuova linea veloce dell'AMT che collegherà la città con l'aeroporto. I quattro nuovi autobus che effettueranno il servizio sono ecologici a metano e includono nel costo di 4 euro del biglietto la possibilità di caricare a bordo i bagagli ingombranti. E' una linea diretta che va dall'aeroporto fino alla stazione passando per il centro e poche fermate, 20-25 minuti. A bordo ci sarà il posto, c'è wifi quindi puoi collegarti con l'albergo, chi vuoi. Poi abbiamo fatto un accordo con Rainer per cui i biglietti possono essere comprati direttamente in aereo perché Rainer lo dirà ogni volta che atterrerà su Catania così come possono essere comprati nelle città collegate in cui c'è Rainer. Poi un'altra cosa importante è che dal parcheggio di Turopilischi è possibile comprare un biglietto dell'alibus, quindi si lascia la macchina, si arriva all'aeroporto. L'alibus entrerà in funzione domani, avrà una frequenza di 25 minuti nei giorni feriali e festivi e toccherà 15 fermate. Ulteriori informazioni sull'alibus e gli altri servizi AMT si trovano sul sito e sulla neonata pagina Facebook dell'azienda metropolitana Trasporti.